Buonasera da Simonetta Bo e da Sostiene Pereira, avvistata nuovamente la Pantera a Pino Torinese. Questa volta, non ci sono dubbi, è proprio la Pantera. Si è presentata in una tabaccheria, ha comprato due bastoncini di acquirizia e poi è andata dalla padrona prima di dileguarsi nel nulla. Il sindaco di Pino Torinese ha detto questa volta la prendiamo. Ho già chiamato Kabir Bedi che è disposto a venire vestito da Sandokan per cercarla di persona. Non è colpa nostra, se in questa regione non succede mai quasi proprio niente di interessante e noi tutte le sere siamo qui costretti a dirvi un sacco di sfonzate. Tra le quali le previsioni del tempo e secondo le quali domani... Fiocca. Buonasera.